24 le ultime notizie Terza edizione del Carnevale d'Autunno siamo con Alberto Polacchi Presidente del Comitato Pullente a Ciriui Come sta andando? Ciao a tutti, benissimo direi perché è il terzo anno di questa Carnevale d'Autunno e anche quest'anno il tempo come avete visto ci aiuta tantissimo il sole è qui presente con noi abbiamo già la piazza Gremi Intelligente la novità grossa di quest'anno è che abbiamo fatto anche ieri un evento anzi più eventi abbiamo avuto la Futur Festa con l'ingresso al museo Palazzo San Francesco abbiamo avuto il Silent Party dove la piazza Mercato a nostra sorpresa era veramente piena e quindi è stato già un successo anche ieri oggi diciamo che lo si vede già adesso dalla piazza dai ragazzi pronti a distribuire polenta e salsiccia perché ricordo che il Carnevale c'è polenta e ciriui ma pur chiamandoci comitato polenta e ciriui nel Carnevale di Autunno presentiamo la nostra novità che è la polenta e salsiccia per cui nelle piazze abbiamo già tutti i bambini e i ragazzi con i loro istruttori che stanno facendo provare gli sport agli altri bambini vi aspettiamo anche nel pomeriggio e tra un quarto d'ora arriverà qui in piazza Mercato la sfilata e successivamente inizierà la distribuzione della polenta e salsiccia grazie a tutti